buonasera amati dell'acquario filia ben ritrovati come promesso vi aggiorno sulla realizzazione del mio nuovo acquario come vedete i miei discusi sono in buona salute questo grazie anche alla manutenzione settimanale di tutti i componenti dell'acquario poi anche perché utilizziamo la cosmosi e anche all'alimentazione varia fatta di bastone sdenker granulato e artemia leofilizzata sia l'alimentazione che pesci ovviamente sono stati acquistati dal nostro amatissimo amico beppe di bari ho una sorpresa per voi oggi e vi mostrerò soltanto questa novità alla fine del video è il papà di tutti i miei discusi un esemplare unico e raro nell'acquario ci sono un marlboro red che è stato acquistato da beppe il 25 febbraio del 2017 due leopards da snake skin che sono stati acquistati il 27 maggio del 2017 e poi c'è un red turquoise un steak skin verde un figlio di snake skin che sono stati acquistati il 14 gennaio del 2017 poi c'è anche un localide nocciolo nell'habitat non abbiamo inserito molti elementi proprio perché perché è più facile da pulire perché il pastone mette a dura dura prova qualsiasi sistema filtrante come promesso ora vi presento il papà dei miei discusi buonasera a tutti è un calorosissimo saluto è un abbraccio al nostro rivenditore beppe di bari che trovate in via giovanni tommaso giordani al numero 41 di manfredonia arrivederci alla prossima